In questa video guida parliamo di salviettine disinfettanti. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Le salviettine disinfettanti, o antibatteriche, rappresentano un prodotto molto utile per chi è spesso fuori, per chi pratica sport all'aperto o anche in campeggio e in tutte quelle situazioni in cui c'è necessità di disinfettare le mani o il corpo, ad esempio dopo un'abrasione durante un'escursione. In comodi formati anche tascabili, piccoli e compatti, le salviettine disinfettanti non sono soltanto per il corpo ma ne esistono tipi specifici per le superfici, utili per esempio negli ambienti ospedalieri, o per disinfettare velocemente strumenti, non solo sanitari. Alcuni tipi di salviettine, con poco o nessun tipo di alcol, possono essere utilizzate per la disinfezione di tablet, telefonini e display di diversi dispositivi. In barattolo, astuccio o pacchetto in plastica morbida, le salviettine hanno diverse misure, dalla più piccola da usare prima di una puntura, a quelle molto grandi per le superfici.